Circa 200 i partecipanti alla marcia di protesta contro il piano di razionalizzazione della rete eterna nella media valle del Piave. Un piano che, secondo i comitati civici della Valbelluna, organizzatori della protesta, è come minimo incompleto. I desiderati interramenti delle linee sono previsti, ma solo in alcuni tratti, e per il resto la corrente viaggerà in cavo aereo. Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali aveva bocciato il progetto giudicando tralicce e cave aerei troppo impattanti sotto il punto di vista visivo. Il Consiglio dei Ministri però ha autorizzato comunque l'intervento e ora i comitati chiedono azioni a tutti i livelli di governo. Perché hanno approvato un progetto a 20 giorni alle elezioni contro un parere del Ministero e del stesso governo che dice che il progetto è inaccettabile. Facciamo appello perché questo provvedimento venga immediatamente ritirato o facciamo appello alla politica locale che metta sul tavolo i ricorsi a cui vogliamo partecipare anche noi perché non ci fidiamo dei ricorsi fatti nelle stanze come hanno fatto le concertazioni dove poi Terna mette sul piatto avvocati più forti che contrastano il progetto. Vogliamo essere partecipi al ricorso. Se non ci daranno una mano amministrazioni locali lo faremo da soli autofinanziandoci. Alcune amministrazioni comunali in questi giorni si sono esposte per il progetto così com'è e altre invece contro il progetto così com'è. Perché Terna è bravissima, va nel territorio, prende un sindaco alla volta, gli mette un mezzo beneficio che tra l'altro l'unico che è vero non ha un intero beneficio ma che ha un buon beneficio è il comune di Sovergene. Gli altri vengono tutti penalizzati, Ponte delle Alpi compreso. Ponte delle Alpi costruiscono le stazioni di trasformazione più grandi d'Europa in pieno centro abitato da dove poi sono costretti ad uscire con delle linee perché questo bisogna fare. Mettono dei piloni alti 60 metri sopra Nuova Erto a 250-250 metri da Nuova Erto e Polpet in piena zona franosa con una linea 380 e interrano in pieno centro abitato che è una delle condizioni che non si utilizzano mai. Ma questo sono costretti a farlo perché hanno la stazione di trasformazione in pieno centro abitato. Alla manifestazione si sono visti tra gli amministratori il sindaco di Belluno Jacopo Massaro e il vice sindaco di Limana e di Fontana entrambi i contrari. Non i rappresentanti dei comuni di Ponte delle Alpi sovergene favorevoli al progetto. Il presidente della provincia Roberto Padrin non ha protestato ma ha intervenuto comunque per proporre un tavolo di confronto per cercare di limare le criticità del piano di Terna.